Quello di oggi è per me un video un po' strano, un po' anomalo. Partiamo dalle date che sono molto importanti. Oggi, mentre sto girando, è la mattina di martedì 18 ottobre e questo video è destinato alla premiere di mercoledì 19 ottobre alle ore 21 come di consueto. Quindi questo è il momento in cui voi lo state vedendo per la prima volta. Perché specifico queste date? Perché mezz'ora fa ho completato la lunga fase delle, chiamiamole, esequia di mia mamma che è morta il 16 settembre e che dopo tutte le procedure di cremazione in questo caso ho potuto finalmente unirla, idealmente, a mio papà che morì quasi 27 anni fa. Infatti oggi c'è questa possibilità di unire nel medesimo spazio funerario, chiamato in modo un po' brutto, un po' cupo l'oculo, le ceneri della mamma unite al papà. E quindi abbiamo completato e idealmente ho riunito mia mamma con mio papà. Tuttavia, come si dice in questo settore, the show must go on e quindi io sono molto fedele ormai a questa abitudine che so moltissime persone hanno creato e che quindi aspettano i miei tre video nuovi a settimana. Non voglio assolutamente tradire questa aspettativa. Al tempo stesso io ho un approccio, come penso si sarà capito, abbastanza poco commerciale a questa faccenda e tutte le persone, bonta loro, che decidono di seguirmi, io le intendo quasi come una comunità di amici evidentemente, oltre che certamente di clienti che sono molto graditi perché con il loro atto di acquisto nei confronti dei miei dischi e atto di visione nei confronti dei miei video, consentono alla mia attività professionale di proseguire e quindi di continuare a fare nuove proposte. Però sono molto lontano da tutti quegli schemi del bravo businessman, le analytics, i conteggi, le categorie, le fasce di età. Sì, ci butto un occhio ogni tanto, ma il mio approccio è e voglio che resti quello che è stato fino all'inizio, cioè colloquiale, amichevole, considerando che davanti non ho dei freddi numeri ma delle persone. Quindi ogni tanto, come sapete, parlo anche delle mie faccende personali, soprattutto quando sono importanti e determinanti come questi fatti di cui sto parlando ora e che purtroppo negli ultimi anni e mezzo si sono ripetuti ben due volte. Ma affrontiamo, mettiamo per un attimo da parte questa questione, ma la riprenderò alla fine, come sentiremo, e affrontiamo invece il tema principale di questa giornata, di questo video, così come annunciato da titolo e miniatura, ovvero la recensione puramente audio di quel capolavoro assoluto che è Animals dei Pink Floyd. Non spenderò più una parola sulla parte artistica, perché ho dedicato non da molto un video, credo, molto dettagliato e approfondito su quello che è il mio pensiero riguardo a questo disco e credo che ormai tutti sappiano che per me è probabilmente il disco di punta, il disco più importante dei Pink Floyd, senza scendere nel puro gusto, ma proprio come livello di importanza globale, musicale, tecnica, eccetera. Però per l'appunto ne ho già parlato, quindi non torno a parlarne qui. È invece veramente importante, secondo me, spendere due parole per questa meraviglia che è appena uscita e che magari vedremo dopo meglio. Questo è il super cofanetto, il cofanetto dell'edizione Remix e Remastering del 2018. È un oggetto, come sempre, meraviglioso. Contiene, dal punto di vista digitale, come vedete, tre supporti, che sono il classico CD, il Blu-ray audio, che contiene, secondo me, la cosa più affascinante, oltre alla presentazione dei vari mix stereo, dall'originale e i vari remastering fino all'ultima edizione, anche e soprattutto il remix multicanale realizzato nel 2018 per l'appunto da James Guthrie. E infine anche il DVD audio nella versione stereo lossless, PCM lineare, e nella versione multicanale invece con compressione, compressione però DTS e quindi di grande qualità. Non manca, evidentemente, anche il piatto forte, ovvero la nuova edizione in vinile, un lussuosissimo vinile 180 grammi, stampato benissimo, in modo spettacolare. Bene, affrontiamo dunque il suono, il suono di questo disco. Come dicevo, non si tratta di un semplice remastering, ma di un autentico remix. Cosa vuol dire? Che con tutta probabilità, anzi con certezza, sono state riacquisite le tracce originarie, il nastro multitraccia analogico, è stato acquisito in altissima risoluzione digitale, probabilmente PCM 24 bit 192 kHz, e su questa base, ad altissima risoluzione, è stato effettuato il nuovo mix. Parliamo della versione stereo. Il nuovo mix è estremamente garbato ed estremamente rispettoso dell'imprinting originario. Semplicemente oggi, con la tecnologia attuale, c'è stato probabilmente una ricalibrazione dei livelli, un sapiente utilizzo di effettistica, quali compressori ed equalizzatori, per letteralmente ingrandire la dimensione del suono e portare in evidenza anche dettagli che nell'edizione originale erano solo accennati e non avevano l'importanza che invece evidentemente avrebbero dovuto avere. Ricordo che questa versione è approvata dai Pink Floyd, quindi direi che non è discutibile il fatto che se un suono si sente meglio di prima sia una scelta anche artistica, non arbitraria del tecnico, ma fortemente voluta dai musicisti stessi. Quindi l'effetto generale rispetto a quella che comunque era già una, secondo me, ottima registrazione dell'epoca, è quella proprio della dimensione del suono. Io non credo sia stata effettuata una masterizzazione invasiva, la dinamica è enorme, quindi sicuramente siamo lontanissimi da qualunque sospetto di loudness war, forse è stato appoggiato un po' di limiter, ma veramente poche cose. Dove invece si è intervenuto in modo determinante è proprio nella fase di mix, andando a cesellare ogni singolo suono nel modo migliore possibile, lì sì, probabilmente anche aiutandolo con piccole compressioni funzionali, con piccole equalizzazioni mirate a gestire la enorme gamma di frequenze presenti in questo disco. E il risultato è spettacolare, già nella versione stereo, perché oltretutto viene mantenuto totalmente il suono analogico, questa è la vera forza anche delle versioni digitali. A dimostrazione di quello che io ho sempre sostenuto e ho ribadito in alcuni video recenti, ovvero che un'acquisizione ad altissima risoluzione di un nastro analogico originale è perfettamente conforme a quel suono lì, cioè a meno che non ci sia uno smanettamento a posteriori scellerato da parte dei tecnici del suono, cosa che accade quasi regolarmente, purtroppo nella maggior parte dei cosiddetti remastering, dicevo in assenza di questa procedura scellerata e in presenza invece di un sapiente utilizzo dei potenti mezzi digitali di oggi, si può solo magnificare il meraviglioso suono analogico nativo e questo accade. Ma dove, permettetemi, bisogna letteralmente inchinarsi è all'ascolto del remix multicanale. Lo so che questo è un argomento spinoso, lo so che pochissimi audiofili dispongono di un impianto multicanale audio all'altezza dei requisiti della musica audiofili e quindi staccato da quelli che sono invece gli standard del video. Il multicanale in cui ho creduto moltissimo, ma che purtroppo poi non ho sviluppato se non in pochissimi titoli, proprio per la mancanza di interesse da parte del pubblico, sta nel gestire innanzitutto un impianto di riproduzione impegnativo con i tre canali frontali che devono essere perfettamente identici e subwoofer e canali posteriori comunque della medesima famiglia, anche se evidentemente i canali posteriori possono essere di dimensioni più piccole, come nel mio caso. Io davanti ho tre Neumann ammiraglie KH420 e come posteriori ho le sorelle minori, le prime sorelle minori, il trevie KH310. E dicevo questo è un requisito minimo per garantire innanzitutto la continuità, la coerenza e la fedeltà timbrica della riproduzione. Poi ci sono tanti altri requisiti come la disposizione dei diffusori che è leggermente differente rispetto a quella del video, ma insomma cose di cui si sa, si è già parlato. Ebbene potendo disporre di un impianto di questo tipo l'effetto è spettacolare, quel concetto di dimensione del suono che credo di aver ben descritto per la fase stereo qui trova finalmente la sua massima espressione. In questo disco sono presenti tantissimi suoni intesi come effetti comunicativi e funzionali alla scrittura musicale. Questi effetti quindi trovano maggiore libertà. Noi per una volta sentiremo anche qualche suono diretto provenire dai canali posteriori, ma totalmente giustificato nell'ambito del ragionamento di questi passaggi, ad esempio in DOGS, dall'effetto allo strumento, dallo strumento all'effetto, veramente folgoranti. E poi l'atmosfera del disco che viene ben comunicata anche dalle immagini. Fra l'altro all'interno c'è un lussuoso booklet 30x30 di 32 pagine dove è quasi interamente dedicato alla complessa sessione fotografica che ha portato alla copertina originaria e alla comunicazione per l'appunto di questo tono crepuscolare, sospeso, a tratti minaccioso. Ebbene c'è un uso delle tastiere di ripieno, diremmo in ambito di musica classica, che con il multicanale assume un'importanza perché ti immerge letteralmente in questa atmosfera, diventa quasi una comunicazione visiva tangibile, oltre che sonora. Quindi il multicanale in questo disco ha un senso veramente determinante e porta secondo me a compimento finale quello che era il progetto artistico originario, che evidentemente all'epoca disponeva di multicanali embrionali assolutamente non all'altezza della bisogna, come si usa dire. I tecnici coinvolti sono semplicemente i numeri uno al mondo, da James Guthrie a Joel Plante per quanto riguarda tutte le parti digitali e poi l'immenso, gigantesco, sorgnione, simpaticissimo e bravissimo Bernie Grundmann per quanto riguarda invece il cutting finale del vinile, che con certezza passa da un intermaster ad altissima risoluzione digitale a conferma di quanto ho sostenuto in un altro mio video recente, ovvero la bontà e la preferibilità di questa tecnica che è largamente utilizzata oggi e che, ripeto, se implementata nel modo migliore con le migliori macchine disponibili garantisce dei vinili di qualità altissima e molto probabilmente superiore anche alle edizioni derivate dai nastri analogici nativi. Io non ho la certezza che in questo caso ci sia un intermaster digitale diretto, quindi master digitale HD LACCA o se ci sia a sua volta un ulteriore passaggio di conversione verso un nastro analogico da cui poi si è passati, quindi master digitale nativo del remix, conversione su bobina analogica e poi passaggio sull'H. Mi sembrerebbe una cosa non intelligente, però non sono sicuro che sia stata fatta o non fatta. Io propendo, propendo a credere che ci sia un passaggio diretto da master HD 24 192 a LACCA e poi stampa nel disco. Che dire, il cofanettone costa 62 euro circa comprato purtroppo sul celebre store online, il più celebre di tutti in occidente, che è purtroppo oggi in modo più diretto e veloce per entrare in possesso di questi oggetti meravigliosi. Ma tralasciamo ancora una volta un altro argomento largamente sviscerato. Dicevo 62 euro che valgono molto ampiamente questo cofanetto, direi che addirittura fra i grandi cofanetti è uno di quelli che costa meno e ha uno dei migliori rapporti qualità prezzo, quindi da comprare assolutamente prima che vada in esaurimento e quindi poi le copie disponibili o rimesse scientemente sul mercato per far lucro raggiungano cifre inavvicinabili. Comprate questo disco, ne sarete ampiamente soddisfatti, qualunque dei formati finirete per utilizzare. Ma come dicevo voglio mettere una sub recensione in questo video e chiudere come ho aperto dando quest'ultimo ricordo e saluto nei confronti della signora Paola che fu mia mamma. E ho deciso di farlo leggendo un piccolo scritto, uno scritto che avevo pensato per il funerale, che avevo tentato di recitare e per la prima volta io che sono uno scafato parlatore in pubblico ho avuto enorme difficoltà anche solo a leggere in quell'occasione, interrotto veramente da moti di emozione che mi erano sconosciuti e imprevisti e dal mio punto di vista addirittura imprevedibili, ebbene sono caduto anch'io in questa situazione che del resto mi dicono essere molto umana. Però allora siccome veramente mia mamma è stata una persona decisamente, tutte le mamme sono persone particolari, non voglio vantare chissà quale così predilezione, ma forse il fatto di aver vissuto e dedicato la sua vita ad una personalità del mondo della musica come fu mio papà un artista vero, autentico, con tutte le sue problematiche e anche con tutti gli aspetti negativi dell'essere la compagna, la moglie, la madre dei figli di un grande artista, comporta. E allora ho scritto queste due paginette che, permettetemi, vado a leggere. Credo ci sia un episodio che più di tanti altri definisce con precisione il carattere e l'attitudine positiva in termini assoluti che fu della signora Paola, mia mamma. Nel febbraio del 2015, in occasione del suo 76esimo compleanno, decisi di regalarle un breve viaggio vacanza a Londra. Lei ed io da soli, come quando negli anni 80 andavamo al cinema Lei ed io, allo spettacolo delle 8 della sera, tante e tante volte. Accadeva dopo che l'anno precedente, nel 2014, aveva passato il suo 75esimo compleanno in ospedale per una delicata operazione chirurgica per asportare un tumore maligno. E dopo che, otto mesi dopo l'intervento, era caduta a causa dell'incuria di una struttura pubblica e si era rotta una vertebra con l'ulteriore patimento subito nell'occasione. Tanto che quando partimmo portava ancora un busto ortopedico, ma mai avrebbe rinunciato a quel viaggio. Per ogni sera avevo prenotato i posti per un differente concerto in alcune delle più belle sale della capitale inglese, dedicate alla musica classica. Una di queste era alla Royal Philharmonic Hall per un concerto della Royal Philharmonic Orchestra. In attesa di salire alla sala, lungo il Tamigi, con un discreto freddo pungente, incontriamo un'altra signora inglese. Anche lei in attesa del concerto, presumibilmente di pari età di mia mamma. A quel punto, e non chiedetemi come, le due si ritrovarono a parlare su input di mia mamma, che iniziò a raccontare di mio papà musicista, con la foga che la contraddistingueva, ovviamente in italiano. E la signora inglese ricambiava, ovviamente in inglese. E le due donne si intendevano perfettamente, pur interloquendo nei loro differenti idiomi. E certamente non grazie al mio disperato tentativo di far da interprete simultaneo in grado di tradurre forse una parola su dieci, ma probabilmente quella parola che bastava. Ecco, questa era mia mamma, una donna ricca di una quasi soprannaturale capacità comunicativa, che andava oltre la lingua e riusciva, nell'intento, grazie al grande spirito positivo e alla sua straordinaria attitudine umana, che le erano proprie. Mia mamma, da giovanissima, neodiplomata all'allora Istituto Tecnico Femminile, aveva davanti a sé almeno due straordinarie prospettive di carriera personale. O come insegnante di scuola tecnica superiore, ruolo che già aveva iniziato a svolgere come supplente, oppure, più ancora, come straordinaria mezzo soprano liriche. Aveva una voce quasi unica per bellezza di timbro e precisione tecnica. Ma quando si sposò, poco dopo i vent'anni, e nacque io, non ebbe alcun dubbio a rinunciare a tutto per seguire suo marito e suo figlio, in quella che era per lei la naturale missione di moglie e di madre. Nell'ambito di quella cosa che era, è stata, e forse non è più, la famiglia tradizionale. Unica base dell'unica società umana possibile e giusta. Concetti che oggi troppi vorrebbero schernire e insudiciare in nome di una perversa modernità annichilente e malata. Ma quello che voglio ben chiarire è che mia mamma non solo non ha mai recriminato per questa sua scelta, ma l'ha vissuta per tutta la vita con uno spirito di entusiastica dedizione, senza mai alcun segnale di dubbio o pentimento. Lei era felice di essere al servizio degli altri che le stavano attorno. Dal marito ai figli, ai parenti più stretti, era la sua missione. Come per lei era giusto che fosse. E alla fine, negli ultimi mesi, quando non era più in grado neppure di stare in piedi, in autonomia, molto malata e sofferente, la cosa che più la tormentava era di non essere più in grado di aiutare la sua famiglia, come aveva fatto fino a quel momento per tutta la vita. Ma mai, mai, neppure quattro ore prima di morire, aveva perso la lucidità. Neppure aveva immaginato di poter lasciare questo mondo, che nella sua convinzione aveva ancora bisogno di lei. E forse aveva pure ragione. Questa è stata la signora Paola, mia mamma. Speriamo che nell'altrove in cui lei sinceramente credeva e in cui io credo che lei ora sia, chi di dovere ne tenga ben conto nell'assegnarle nell'eternità di bene il posto che si è guadagnata a buon diritto. Adios, signora Paola. E dejami confirmarti che, Patricia e io, noi iremo molto pronto di questa terra ingrata che si è convertita in nostra Italia. E torneremo dove cominciò la storia di nostra famiglia, dove nascendo tua abuela, in terra di Spagna. La storia di Spagna 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 La storia di Spagna